Questo programma è offerto da Ars Biomedica. Grazie a tutti. Benvenuti in una nuova puntata del programma dedicato alla medicina dal titolo Lo Stetoscopio Parlante. Allora, praticare sport dopo l'impianto di una protesi al ginocchio o all'anca è un argomento che richiede una valutazione attenta e una discussione con il proprio medico. Le protesi in generale sono solitamente realizzate per migliorare la mobilità e la qualità della vita delle persone che soffrono di artrosi. Ma ci sono alcune considerazioni importanti da tenere in considerazione quando si tratta di fare sport e di fare attività fisica dopo l'intervento. Di questo parliamo oggi con i nostri esperti che vi presento subito. Il dottor Marco Villa, chirurgo ortopedico specialista in protesi. E la dottoressa Veronica Giuliani, medico chirurgo. Benvenuti. Allora, dottor Villa, cominciamo dall'inizio. Che cos'è l'artrosi? Allora, diciamo, l'artrosi intanto è una patologia estremamente diffusa. È una patologia cronica, è una patologia degenerativa. È una patologia purtroppo a carattere evolutivo. È un po' una patologia dell'invecchiamento? Sicuramente è una patologia dell'invecchiamento. A carattere evolutivo che cosa vuol dire? Che purtroppo, inevitabilmente, evolve in senso peggiorativo. Cioè, non è una patologia che noi possiamo in qualche modo arrestare. È sicuramente una patologia dell'età più avanzata. Perché è una patologia degenerativa. Quindi le articolazioni noi non possiamo non usarle. Quindi nella vita di tutti i giorni, camminando, facendo attività sportiva, lavorando, e trasportando anche il nostro peso corporeo, inevitabilmente i tessuti delle giunture di cui siamo fatti, quindi le anche, le ginocchia, le caviglie, vanno incontro a un processo degenerativo. Chiaramente l'artrosi, non tutti i pazienti sviluppano l'artrosi, perché poi ci sono dei fattori che la favoriscono. Sicuramente c'è una forte predisposizione genetica, quindi una forte predisposizione familiare. Quindi il paziente che ha i nonni che sono sofferto molto di artrosi, gli zii, i genitori, eccetera, eccetera, probabilmente ha una predisposizione. Quindi è un paziente che magari deve stare un pochino più attento, perché già sa che tenderà a svilupparla. Però non è solo una questione familiare, non è solo una questione costituzionale, anche la vita di tutti i giorni. Per esempio, sicuramente il paziente che ha un peso maggiore potrà sviluppare più facilmente l'artrosi, perché le giunture porteranno un peso enorme, quindi il calo ponderale sicuramente è una buona norma. Oppure i pazienti che fanno degli sport ad elevato contatto, quindi pallavolo, basket, calcio, in cui le articolazioni sono soggetti a microtraumi ripetuti e quindi a un'usura maggiore. O anche patologie acquisite, per esempio la necrosi della testa del femore, che spesso magari può prendere pazienti che fanno terapie prolungate cortisoniche. Il cortisone indebolisce l'osso, l'osso è la struttura su cui si lega la cartilagine e quindi la cartilagine automaticamente può essere danneggiata. O anche delle patologie genetiche, per esempio l'epifisiolisi, l'epifisiolistesi, le diesplasia congenite dell'anca, possono sviluppare delle artrosi, quelle artrosi che noi chiamiamo secondarie. Cioè sono artrosi che non sono venute solo per l'invecchiamento, ma sono venute perché una patologia acquisita ha fatto sviluppare questa artrosi secondariamente. Sete, che cosa succede all'articolazione? L'articolazione è formata, l'articolazione diciamo è la parte dove si congiungono due ossa e si può generare il movimento. Chiaramente le ossa sono rivestite di cartilagine. La cartilagine è un tessuto, diciamo fibroelastico, un ammortizzatore, che fa sì che i carichi non si sviluppino sull'osso, ma vengano ammortizzati da questo tessuto. Beh, l'artrosi è proprio il consumo meccanico di questo tessuto. Quindi quando diciamo la cartilagine va via, le ossa sfregano l'una sull'altra e quindi si sviluppano infiammazioni, edemi dell'osso, questi dolori, che rendono meno valida, cioè invalidano la vita del paziente. Poi a seconda della gravità dell'artrosi, un'artrosi lieve magari limiterà il paziente solo in determinate attività sportive, un'artrosi molto grave limita la qualità di vita in tutto, anche semplicemente andando a prendere un caffè al bar oppure alzandosi o camminando. Certo. Perciò, dottoressa Giuliana, una patologia estremamente diffusa, ma si possono individuare delle cause e come prevenirle? Assolutamente sì. Come diceva il dottor Villa, è importante innanzitutto dividere le cause dell'artrosi in artrosi primarie e artrosi secondarie. Questo perché le primarie sono quelle, la causa primaria è una causa su cui molto probabilmente non si può agire in maniera preventiva o quantomeno ci si può agire più raramente, perché sulla genetica ovviamente non ci si può fare nulla. Per quanto riguarda il calo ponderale, quindi un paziente che è molto pesante sicuramente può avere più facilmente l'insorgenza di un'artrosi sintomatica, mentre le cause secondarie, anche queste alcune immodificabili, sono principalmente la displasia congenita dell'anca, sono i traumatismi, possono essere delle fratture, può essere la chirurgia stessa, delle volte alcuni pazienti vengono sottoposti a dei trattamenti chirurgici che si sa già quando vengono effettuati che potrebbero predisporlo a un'insorgenza di artrosi. Quindi sono pazienti che sanno che svilupperanno l'artrosi. È vero anche che possiamo considerarli comunque cause immodificabili in quanto un trauma o una frattura non sono prevedibili. L'intervento chirurgico già può essere una cosa su cui l'altro chirurgo da cui si rega il paziente può rendere tutto il paziente spiegandogli che potrebbe fargli insorgere un'artrosi precoce e quindi il paziente può anche decidere di non fare quell'intervento per non incorrere in un'artrosi precoce, ad esempio. Infatti se parliamo di ginocchio, come diceva la dottoressa Giuliani, per esempio il menisco, famosi interventi, ho tolto il menisco, ho pulito il menisco. Ecco, questa procedura non è scevra di rischi o di complicazioni perché togliere o pulire quello che i pazienti chiamano pulire un menisco oggi predispone all'artrosi domani. Quindi molte protesi che effettuiamo oggi in anamnesi hanno magari un pregresso intervento chirurgico magari semplicemente artroscopico di pulizia del menisco perché il menisco protegge le cartilagini quindi sottraendo questa protezione la cartilagine si usura più velocemente. Quindi bisogna anche stare un pochino attenti a volte alle indicazioni chirurgiche, capito? Cioè quando è strettamente necessario sì, se si può evitare è meglio preservare l'articolazione piuttosto che andarla a operare più volte. Dottoressa? È anche vero che delle volte ci sono delle lesioni meniscali, ad esempio, che sono di per sé artrosizzanti quindi è difficile anche la scelta sia del paziente che del chirurgo perché è artrosizzante l'intervento ma è artrosizzante anche la lesione. Certo, per cui è tutto da valutare, da bilanciare, tanto la medicina è tutto un bilanciamento, è così. Senta, e i fattori di rischio, dottor Villa? I fattori di rischio per l'artrosi? Sì, i fattori di rischio per l'artrosi sono quelli che abbiamo detto cioè un uso eccessivo dell'articolazione quindi per esempio abbiamo detto intanto il sovrappeso il sovrappeso è un fattore di rischio poi per esempio alcune terapie abbiamo visto la terapia cortisonica può essere un fattore di rischio poi abbiamo visto i traumatismi quindi sottoporre l'articolazione a un eccessivo uso quindi a un eccessivo sovraccarico meccanico sui fattori costituzionali chiaramente non ci possiamo fare niente. Senta, i primi sintomi? Ci sono dei campanelli d'allarme? Beh, i primi sintomi diciamo di un'artrosi sono fondamentalmente il primo sintomo è il dolore il dolore qualche volta è il gonfiore perché un'articolazione che ha un danno cartilaggino un'articolazione che ha un'usura cartilaginea è uno stimolo cronico continuo alla produzione di liquido sinoviale quindi quello che noi chiamiamo l'idrarto cioè il ginocchio lanca più gonfie con questo famoso versamento che a volte preoccupa i pazienti dicendo oddio la mia malattia è il versamento no, la malattia non è il versamento la malattia è l'artrosi che provoca il versamento questo nelle fasi, diciamo il dolore e il gonfiore è nelle fasi più precoci nelle fasi più gravi poi ci sta una deviazione dell'asse meccanico perché l'articolazione che si ammala tende a modificare l'asse quindi le ginocchia che si storcono eccetera eccetera e la limitazione funzionale cioè il paziente dice io non riesco più a fare quello che facevo un tempo nell'artrosi d'anca per esempio la cosa tipica è dicono non riesco più ad allacciarmi le scarpe cioè non riesco ad arrivare in fondo non riesco a piegare l'anca nelle artrosi di ginocchio non riescono più per esempio ad accovacciarsi anche quando vanno in chiesa magari per pregare a inginocchiarsi perché la flessione del ginocchio diventa dolorosa e soprattutto nei casi più gravi non ci si arriva proprio cioè la limitazione della funzionalità, la limitazione del movimento i distretti articolari più frequentemente colpiti ha anche il ginocchio? i distretti più frequentemente colpiti di mia pertinenza sono l'anca il ginocchio però sicuramente è molto molto colpita la colonna vertebrale e anche le mani quindi diciamo l'artrosi anche perché la colonna vertebrale è proprio l'asse portante dell'organismo quindi effettivamente è l'articolazione più sollecitata quindi diciamo un'artrosi della colonna vertebrale non dico che è un'evenienza certa nella vita mi l'ha con gli anni ma è sicuramente altamente probabile altamente probabile dottoressa Giuliani l'artrosi può essere trattata in modo conservativo prima di arrivare all'intervento? assolutamente sì l'artrosi deve essere trattata in modo conservativo prima di arrivare all'intervento chirurgico perché il chirurgo è l'ultimo che il paziente deve vedere in assoluto quindi vale la pena quando ovviamente è possibile quando non sono artrosi di grado severissimo quando è possibile dare un sollievo al paziente perché fondamentalmente il trattamento dell'artrosi è un trattamento sintomatico non si può in nessun modo restituire l'articolazione che il paziente aveva prima dell'artrosi quindi quello che si può provare a fare è alleviare i sintomi e se prima di arrivare a una protesi per alleviare i sintomi si può provare a fare la fisioterapia che può essere sia una fisioterapia fisica quindi di macchinari che una fisioterapia propriamente riabilitativa si possono provare le comuni terapie antidolorifiche che ovviamente purtroppo non possono essere fatte troppo prolungate perché tutti i farmaci hanno degli effetti collaterali però possono aiutare il paziente in alcune fasi della malattia e esiste poi tutto un capitolo a parte che è il capitolo della medicina rigenerativa che però forse Villa me ne sa parlare un po' meglio però fondamentalmente anche il tentativo infiltrativo soprattutto nell'artrosi del ginocchio può essere un tentativo che si può provare questo perché si deve andare dal tentativo meno invasivo fino alla chirurgia che ovviamente è la cosa più invasiva le infiltrazioni probabilmente appena prima della chirurgia sono la cosa più invasiva perché comunque c'è un contatto diretto con l'articolazione Dottor Villa, prima di arrivare all'intervento chirurgico queste terapie conservative di cui ci parla la dottoressa? Beh, diciamo che come ha già detto la dottoressa fondamentalmente una vera e propria cura dell'artrosi non esiste a tutt'oggi l'intervento ortopedico più eseguita se ne fanno oltre un milione l'anno nel mondo è la protesi quindi se esistesse una terapia conservativa che possa evitare la protesi io non penso che un milione di persone l'anno si farebbero operare farebbero tutti questa terapia conservativa miracolosa diciamo che le terapie conservative ci sono ed è giusto che ci debbano essere perché il paziente non deve effettuare una protesi alla prima artrosi o ai primi sintomi perché comunque un intervento di alta complessità è un intervento invasivo è un intervento che toglie un'articolazione biologica e ne dà una artificiale quindi è un intervento che si fa come ultima spiaggia cioè il chirurgo è l'ultima persona che il malato di artrosi deve vedere però giustamente il malato di artrosi dice va bene, io devo venire per lei come ultima cosa ma io il dolore come lo levo? cioè come campo io adesso? abbiamo noi delle terapie che sono delle terapie che noi chiamiamo sintomatiche sintomatiche vuol dire che agiscono sul sintomo non agiscono sulla causa ok, quindi quell'artrosi progredirà comunque però tu vivi meglio e queste fondamentalmente sono la fisioterapia che secondo me è molto importante un bravo fisioterapista non tanto diciamo la fisioterapia quella strumentale sì che è di aiuto per togliere un pochino l'infiammazione, la laser, la terapia piuttosto che la tecaterapia ma proprio il fisioterapista che agisce sull'articolazione migliorandone la funzione perché anche un'articolazione malata può funzionare più o meno bene a seconda del tono muscolare, dell'equilibrio muscolare dell'equilibrio di tutto poi l'organismo invece dal punto di vista proprio esclusivamente di dolore quello a cui la gente ricorre di più sono fondamentalmente le infiltrazioni che adesso si possono fare con tanti farmaci farmaci esclusivamente antinfiammatori come per esempio i corticosteroidei che hanno un'azione meravigliosa sul dolore però dura poco l'effetto benefico anzi il cortisone alcuni sono molto contrari perché in realtà il cortisone danneggia un pochino le cartilagini quindi al paziente lì per lì fa piacere però alla lunga può creare un danno l'acido ialuronico che è un sostituto del liquido sinoviale quindi ne ha le stesse funzioni nutritive di lubrificazione, riduzione dell'attrito e quindi miglioramento del dolore le infiltrazioni poi si dividono a seconda dei vari farmaci in infiltrazioni di acidi ialuronici lineari o infiltrazioni di acidi ialuronici crosslinkati crosslinkati sono acidi ialuronici che subiscono un processo per cui le molecole di acido ialuronico non sono libere ma sono legate con legami covalenti chimici l'una all'altra quindi sono in grado, sono più dense fanno anche un po' più male nell'atto dell'infiltrazione però hanno la capacità di permanere nell'articolazione più a lungo la medicina rigenerativa fondamentalmente sono derivati del sangue proprio oppure cellule mesenchimali prelevate dal proprio tessuto adiposo in alcuni casi selezionati possono essere di aiuto anche lì non sarà mai una terapia definitiva purtroppo a tutt'oggi la terapia definitiva è la protesi quanto tempo possono durare queste terapie prima dell'intervento? ma io dico al paziente il più possibile cioè vieni da me non perché io ho tanti pazienti operati di protesi che stanno benissimissimo ma sono tornati anche attività sportive e tutto però non nel 100% dei casi perché essendo un intervento di alta complessità se il diavolo ci vuole mettere lo zampino si può verificare una complicanza e l'intervento di protesi non è un intervento su cui puoi dire torniamo indietro una volta che la complicanza si è verificata la dobbiamo affrontare poi uno spera che la complicanza non ci sia le protesi ne facciamo oggi tante quindi è sicuramente un intervento affidabile però non è detto né che sia eterno e che quindi sia l'ultimo intervento della vita e né che magari quella complicanza nello 0,3% dei casi può sempre capitare allora di tutto questo parleremo tra pochissimi minuti adesso ci salutiamo e ci rivediamo tra pochissimi minuti parleremo proprio di questo dell'intervento chirurgico, delle sue complicanze, di quando bisogna intervenire eccetera 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 a tra poco Bentornati studio, oggi stiamo parlando di artrosi e di protesi l'artrosi che è una malattia diffusissima tra tutti quanti è praticamente un invecchiamento come ci hanno spiegato i nostri esperti oggi delle nostre articolazioni, delle nostre ossa allora, dottor Vila, abbiamo parlato delle terapie conservative invece quando è necessario intervenire chirurgicamente? allora, abbiamo detto che l'intervento chirurgico di protesi è necessario farlo fondamentalmente quando il chirurgo reputa che il trattamento conservativo non possa più giovare quindi quando il chirurgo vedendo le lastre, visitando il paziente si accorge che l'articolazione è fortemente limitata che il dolore è effettivamente fortemente invalidante che la radiografia o la risonanza magnetica o la radiografia e la risonanza magnetica concordano che l'articolazione è in maniera irreversibile danneggiata allora a quel punto se coincide il quadro clinico con il quadro radiografico con il paziente si decide di intervenire a quel punto gli accertamenti servono per la scelta del tipo di protesi perché chiaramente non esiste una protesi d'anca o una protesi di ginocchio ma esistono protesi di vario tipo però direi che l'indicazione è l'insieme di un quadro clinico e un quadro radiografico che non possono più giovare della terapia conservativa Seta, e quanto durano generalmente le protesi? Questa è una domanda la cui risposta è molto difficile dare perché la protesi è un device cioè è un'articolazione artificiale chiaramente come in tutte le cose le protesi di oggi non hanno gli stessi materiali è lo stesso design delle protesi di ieri delle protesi dell'altro ieri perché la scienza va avanti la tecnologia va avanti quindi noi che cosa sappiamo oggi? Sappiamo quanto sono durate le protesi impiantate 20-30 anni fa con i vecchi materiali per esempio è uscito recentemente un articolo che ci dice che circa 6 protesi su 10 sono sopravvissute a 20-25 anni parliamo chiaramente di protesi impiantate 20-30 anni fa quindi oggi con i nuovi polietileni crosslinkati con le nuove protesi con i nuovi design con i nuovi accessi chirurgici eccetera eccetera noi crediamo che questo 6 su 10 sia molto più alto però quanto durerà lo sapremo tra 20 o 30 anni perché le protesi di ultima generazione per fortuna sono ancora dentro il malato e quindi sopravvivono però direi che oggi ci possiamo aspettare diciamo che possiamo garantire un 20-25 anni io credo che in assenza di complicazioni si possano tranquillamente garantire ci dice qualcosa sull'intervento di protesi sulla complessità di complicazione? allora iniziamo dall'anca l'anca ha due tipi diciamo adesso di concetti fondamentalmente quello che oggi si cerca è la mini-invasività cioè la protesi un tempo era un intervento di salvataggio cioè non sapevi che cos'altro fare il paziente era anziano mettevi la protesi lo limitavi nella sua qualità della vita e finiva così oggi il paziente ti chiede non solo di migliorare la qualità della vita ma talvolta ti chiede anche di poter fare dell'attività sportiva e tutto quindi diciamo che oggi abbiamo cerchiamo di essere meno invasivi possibile la mini-invasività si ha sia sulla dimensione della protesi quindi cerchiamo di mettere sempre meno metallo meno ceramica meno mezzi estranei e cercare di risparmiare più biologia possibile e poi sull'accesso chirurgico perché gli accessi chirurgici più tradizionali erano un filino più invasivi cioè andavano a distaccare i muscoli, i tendini, i legamenti per poter arrivare all'anca e impiantare la protesi oggi invece si utilizzano degli accessi chirurgici mini-invasivi che sono diversi accessi chirurgici però sono accessi chirurgici che ti permettono in un taglio comunque piccolino estetico di 7-8 centimetri di riuscire a passare tra i muscoli senza inciderli e impiantare la protesi senza essere diciamo molto aggressivo e questo permette al paziente di poter avere un recupero più rapido quindi di poter quantomeno camminare anche poggiando l'intero peso del corpo questo da subito questo vale sia per le protesi di ginocchio che per le protesi d'anca perciò è un tipo di intervento che ha avuto un'enorme evoluzione in questi ultimi anni Sì, ha avuto un'enorme evoluzione soprattutto adesso il paziente è in grado di recuperare molto velocemente una funzione pressoché normale per quanto riguarda la vita di tutti i giorni poi per quanto riguarda invece attività più importanti come lo sport chiaramente c'è da fare delle riflessioni in più Allora, questo lo vedremo Senta, dottoressa Giuliani dopo l'intervento che tipo di riabilitazione è consigliata? Allora, solitamente indipendentemente dall'impianto che si sceglie di utilizzare indipendentemente che sia un anco o che sia un ginocchio se l'intervento si è svolto senza complicanze il paziente può essere messo in piedi da subito noi diciamo che la protesi è pronta all'uso quindi il paziente inizia una riabilitazione che consiste inizialmente nell'assumere la posizione seduta e poi nel mettersi in piedi e diambulare ovviamente con gli ausili ovviamente con del personale dedicato già da subito anche nella stessa giornata in cui ha fatto l'intervento chirurgico questo chiaramente è possibile in base al tipo di anestesia che hanno fatto i pazienti e quindi non appena l'anestesia più praticata è quella in cui viene fatta la spinale quindi si addormentano le gambe non appena le gambe si svegliano il paziente potenzialmente può essere messo in piedi quindi normalmente il giorno stesso o la mattina dopo l'intervento i pazienti vengono messi in piedi e cominciano a fare una fisioterapia questo gli permette anche di entrare subito in confidenza con la protesi cioè di capire che possono effettivamente utilizzarla da subito senza avere troppi problemi per cui diciamo che anche in relazione al dolore e al post operatorio il paziente cammina da subito fa una riabilitazione in cui recupera l'articolarità quindi il movimento che era invece primo limitato si accorgono da subito che hanno una situazione diversa da quella preoperatoria perché sebbene abbiano il dolore dovuto all'intervento chirurgico è un dolore già diverso da quello dell'artrosi quindi entrano in confidenza con l'articolazione camminano e cominciano a fare un po' di rinforzo muscolare solitamente noi prevediamo diciamo il primo mese mese e mezzo di riabilitazione dopo l'intervento per un ritorno a una vita molto sovrapponibile da fare con il fisioterapista da fare con il fisioterapista secondo me il fisioterapista ha un ruolo molto rilevante nel post operatorio del paziente perché poi il post operatorio è anche magari per un paziente avere un buon fisioterapista che li segue, che li aiuta insomma è molto confortante perciò le dice scusi un mese e mezzo dobbiamo considerare circa un mese di fisioterapia un po' più importante e poi piano piano i pazienti imparano gli esercizi li continuano a fare e diventa la loro quotidianità e poi dipende anche molto dal paziente chiaramente dipende anche dal tipo di protesi che viene impiantata perché per esempio se noi parliamo di ginocchio esistono, noi dividiamo diciamo il ginocchio in tre compartimenti il compartimento centrale dove vi è la rotola e i compartimenti interno ed esterno per cui non è detto che l'artrosi colpisca tutto il ginocchio può colpire anche una parte isolata del ginocchio può colpire solo la rotola può colpire solo la parte interna o può colpire solo la parte esterna e per questo che oggi nascono anche delle protesi che sono delle mini protesi che vanno a sostituire solo la parte danneggiata del ginocchio noi le chiamiamo le protesi monocompartimentali perché dividendo il ginocchio in tre compartimenti noi abbiamo quindi la protesi monocompartimentale interna la protesi monocompartimentale esterna e la protesi della femororotulia qualche volta si possono fare anche due dei tre compartimenti chiaramente la riabilitazione il post-operatorio di una protesi monocompartimentale è nettamente più soft e più semplice di una protesi totale il paziente non arriva mai a perdere una quantità di sangue importante per cui non è mai capitato di dover fare per esempio una trasfusione facendo una monocompartimentale l'articolarità del ginocchio la protesi monocompartimentale la recupera molto velocemente quasi subito un'articolarità completa una protesi completa totale di ginocchio invece è un processo che può richiedere uno, due, tre mesi prima di arrivare a un recupero completo del movimento quindi anche il tipo di protesi fa il tipo di riabilitazione oltre che il tipo di paziente chiaramente c'è il paziente che recupera molto velocemente e c'è il paziente che recupera molto lentamente questo è anche insomma in parte dipende dalla protesi in parte dipende dal paziente Senta, dottoressa Giuliani e quali attività sportive sono da preferire dopo un intervento di protesi? Allora diciamo che in questo capitolo si aprono due grandi famiglie che sono quelle delle protesi cementate e delle protesi non cementate in generale dopo una protesi si può tornare a fare sport assolutamente sì la protesi cementata è una protesi che così come è a un mese lo è anche a un anno perché è stata fissata con il cemento molto spesso le protesi di ginocchio vengono più frequentemente cementate rispetto alle protesi d'anca mentre ci sono delle protesi che poi sono quelle che vengono più utilizzate ad esempio in Italia per la protesi d'anca che invece non hanno il cemento quindi tornano a fare sport tutti i pazienti ma magari una protesi che non viene fissata con il cemento ma che ha bisogno di una fissazione biologica quindi ha bisogno che l'osso cresca sopra la protesi per farla diventare stabile anche durante un'attività sportiva con un medio impatto è un paziente quello sarà un paziente che potrà fare sport più o meno diciamo a 6-8 mesi dalla protesi dopo qualche mese dopo comunque l'ok dell'ortopedico però in linea di massima ci sono degli sport che sono più consigliati quindi gli sport a basso impatto come ad esempio il nuoto il golf anche se nella protesi di ginocchio anche lì è un discorso un po' particolare perché c'è un movimento di rotazione del ginocchio però in generale ci sono degli sport che sono diciamo più soft mentre gli sport a medio e alto impatto sono più consigliabili in pazienti che avevano un buon livello preoperatorio di quegli sport quindi gli agonisti possono senza dubbio tornare a fare anche degli sport che in generale vengono sconsigliati o chi ha fatto un intervento di protesi però chi è molto bravo a giocare a tennis dopo l'intervento di protesi tornerà a giocare a tennis mentre per sport un po' più pesanti come possono essere il basket la pallavolo comunque il rugby quindi ad altissimo impatto insomma ci sarebbe da avere un occhio di riguardo è comunque sempre importante consultare l'ortopedico per esempio per gli amanti del tennis c'è un noto tennista agonista molto famoso che sta giocando attualmente Wimbledon, Roland Garros e quant'altro che gioca con la protesi d'Anche che è stato operato di protesi d'Anche è stato operato di protesi d'Anche quanto tempo prima? è stato operato se non mi sbaglio aveva 31 anni quando è stato operato per un anno non si è visto ha recuperato la muscolatura e tutto dall'intervento adesso gioca regolarmente e chi è? si chiama Andy Murray e adesso sta andando sta giocando giocherà Roland Garros tra un paio di mesi benissimo allora lo seguiremo dottor Villa per cui ci sono degli sport che sconsigliate invece? beh diciamo come diceva la dottoressa Giuliani se parliamo di nuoto bicicletta una corsetta da subito dopo ho fatto la protesi appena il paziente se la sente appena il paziente tant'è vero che a volte il paziente ci chiede dopo l'intervento di andare in una clinica riabilitativa no? noi in Italia lo Stato ce lo permette di poterci ricoverare anche fino a 30 giorni in una clinica riabilitativa molte cliniche riabilitative romane hanno la piscina quindi subito dopo l'intervento chirurgico appena levati i punti quindi 15 giorni dopo 20 giorni massimo dopo l'intervento chirurgico i pazienti che vanno in clinica riabilitativa fanno il recupero di la riabilitazione in acqua quindi se si parla di questa tipologia di sport a basso impatto non c'è un grosso problema perché anche la protesi nel momento in cui è impiantata e diciamo già la tenuta meccanica primaria è sufficiente a reggere un'attività di sport leggero se parliamo di sport più impegnativi noi aspettiamo che la protesi noi la chiamiamo subisca l'osteointegrazione cioè nel momento in cui la protesi è impiantata è diciamo incastrata meccanicamente nell'osso così come un chiodo in un muro quando uno appende un quadro però la protesi non è diciamo osteointegrazione cioè l'osso non è ancora cresciuto sulla protesi dopo qualche mese siccome la protesi è rivestita di sostanze osteoinduttive l'osso è in grado di crescere all'interno della protesi e quindi di integrarla all'osso a quel punto neanche a cannonate si sfila più la protesi e in quel momento noi concediamo un'attività sportiva più intensa gli sport proprio quelli ad elevato impatto ad elevata possibilità di subire anche un trauma come per esempio il calcio come per esempio il basket come per esempio il rugby su quelli siamo un po' più cauti perché non c'è una ricca letteratura scientifica che ci dica che con lo sport ad alto impatto la protesi dura lo stesso numero di anni che dura in chi l'attività sportiva ad alto impatto non la fa quindi finché non siamo sicuri che possiamo garantire al paziente la sopravvivenza di diverse decadi di vita della protesi siamo cauti nel dire fai sport ad alto impatto poi però nella pratica clinica operiamo degli amici come a me è capitato anche colleghi medici che tranquillamente non si importano di questa cosa e giocano a padel a tennis perché poi uno come il citato Andy Murray alla fine se lo sport è la tua vita vagli a dire di no è veramente difficile certo setta ma è vero che siamo arrivati anche alle protesi bilaterali sì io personalmente ho cominciato nel 2018 sei anni fa con il primo caso era un caso di protesi d'anca un imprenditore un costruttore che aveva un'artrosi a entrambe le anche è molto grave a entrambe le anche molto sintomatica a entrambe le anche lui viene da me dicendo io non ho difficoltà a perdere tutti questi mesi di lavoro però non devo per forza farlo quindi facciamo subito la prima anca così poi faremo appresso ancora qualche mese dopo la seconda anca e mi chiese quanto doveva passare tra un'anca e l'altra in realtà io gli disse guardi nel mondo comunque hanno già cominciato a farle tutte e due insieme bene lui si è fidato ed è stato il mio primo caso nel 2018 in cui ho stato operato contemporaneamente all'anca destra e sinistra e devo dire la verità è stato un paziente molto 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 soddisfatto molto contento e quindi di lì a poco dal 2018 ad oggi sono passati sei anni ne ho fatto una cinquantina di casi e devo dire per il momento diciamo la maggior parte era una bilaterale d'anca qualcuno anche bilaterale ginocchio per il momento non mi sono non ho avuto modo di pentirmi di questa decisione però devo dire la verità con grosso stupore si rallenta veramente poco la ripresa la mia paura all'inizio era che la debilitazione che poteva portare un doppio intervento di alta complessità rallentasse parecchio la ripresa invece devo dire la verità credo una metà dei casi addirittura hanno ripreso con la stessa velocità con cui hanno ripreso gli altri che magari ne hanno fatta una sola perché poi si parlano a volte i pazienti tra loro una metà dei casi effettivamente hanno avuto una ripresa leggermente più lenta cioè ci hanno messo un po' di più a riprendersi ma non tanto dall'intervento in sé per sé cioè anche delle ginocchia forse un po' di più dalla perdita di sangue che due interventi ha comportato quindi una ripresa più generale che locale delle articolazioni in sé e comunque non è stata mai doppia è sempre stata poco più lunga ecco dottoressa Giuliani la sua esperienza sulla protesi bilaterale che le dice beh diciamo che il vantaggio sicuramente di fare in un solo intervento tutte e due le articolazioni è che in un paziente che un paziente può subire una sola anestesia un solo intervento chirurgico e una sola riabilitazione e questo sicuramente è un vantaggio enorme sia per i tempi di recupero cioè sicuramente è magari assente dal lavoro per meno tempo per le sue richieste funzionali ma anche per le complicanze perché comunque sottoporsi a due interventi chirurgici e prendere le complicanze di due anestesie almeno quella si prende la complicanza di una sola anestesia poi l'intervento chiaramente è doppio però noi crediamo che probabilmente l'organismo mette in atto dei sistemi anche difensivi per cui questi pazienti hanno poi un'omeostasi e vanno effettivamente molto bene non stanno male il doppio di una persona che ne ha fatto un solo lato quindi secondo noi se ci sono le indicazioni assolutamente sì nei pazienti giovani si può fare da preferire va bene si riducono anche molto alcune complicanze per esempio per esempio le dismetrie cioè il fatto che le due gambe non siano perfettamente uguali dopo un intervento di protesi ecco nei casi di bilaterale sono praticamente identiche perché uno mette lo stesso tipo di impianto lo stesso chirurgo una volta di l'altro mette lo stesso tipo di impianto della stessa marca della stessa taglia quindi ecco che in tutte le volte praticamente il bacino è uscito da una bilaterale sempre molto molto equilibrato equilibratissimo perché quando uno ha una protesi comunque almeno inizialmente nelle prime settimane qualcuno no ma qualcuno può sentire la differenza tra una protesi tra un'anca protesizzata e un'anca biologica il paziente che fa la bilaterale ha due anche per forza di cose identiche perché è la stessa protesi della stessa taglia della stessa marca quindi qualche volta addirittura è andato è andato meglio beh io vi ringrazio molto grazie vi abbiamo parlato dei grandi progressi che sono stati fatti in questo tipo di chirurgia cioè quello delle protesi grazie dottor Villa grazie dottoressa Giuliani grazie a voi grazie a voi che ci avete seguito ci vediamo alla prossima puntata questo programma è stato offerto da Ars Biomedica grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie a voi